...di questo contributo che ha dato il nostro amico Francesco Giubilei dal titolo I riferimenti culturali della Lega di Salvini, che è una lettura assolutamente interessante perché per la prima volta nella mia vita mi trovo a leggere, se volete, non una biografia ma qualcosa di molto vicino a tante cose che in questi anni mi sono trovato a vivere e che Francesco ha ben descritto in questo suo contributo. Sapete che ci raggiungerà anche il sottosegretario Jacopo Morrone che però è perso da qualche parte qui nella Camera, trattenuto tra una commissione e l'altra, ma speriamo che riesca a raggiungerci e da altre anni. Voglio dire solo poche cose. La Lega è ancora il più antico partito italiano, so che fa sorridere perché se si guarda il panorama europeo dove esistono partiti politici che esistono da centinaia di anni in alcuni casi noi ci troviamo un partito che è relativamente giovane in termini anagrafici che però nell'attuale panorama politico italiano è quello che ha la fondazione più lontana nel tempo. Naturalmente la Lega di Salvini è qualcosa di molto ben differente come potete immaginare dal percorso che ha iniziato la Lega stessa 30 anni fa e persone come me che pur nel corso degli anni hanno sempre condiviso l'impostazione soprattutto federalista, la responsabilità delle amministrazioni locali, del essere responsabili delle proprie tasse e quindi del proprio futuro delle spese, un concetto di accountability degli amministratori hanno sempre guardato con grande attenzione la Lega. Poi c'erano però degli elementi che mantenevano per persone come me una diciamo c'erano dei punti di dissonanza. La Lega di Salvini invece opera già molto tempo e prima che la Lega stessa avesse digerito queste cose un cambio di paradigma molto evidente. Racconto che la prima volta che Matteo Salvini mi raccontò il suo film di come vedeva il futuro della Lega era particolarmente affascinante, dico al limite dell'incredibile perché era effettivamente uno storytelling, uno scenario che si faceva fatica a vedersi materializzato, che però basava su tutta una serie di elementi che erano assolutamente concreti e che stavano nelle cose. Quindi a un'analisi un po' più approfondita era una storia che in realtà aveva basi molto più solide di quello. Per cui Salvini più di tre anni fa comincia a non usare più la parola Nord, parlava sempre di Lega, quando a tutti i gazebo a cui andavo io la parola Nord in realtà era sempre presente e ti scontravi anche con il nostro ospite Jacopo Morrone e quindi avevamo questa dicotomia di un leader che era già andato avanti sulla nazionalizzazione del movimento e un partito che invece sul territorio addirittura aveva alcune sezioni dove si giurava sull'articolo 1 dello statuto che era l'indipendenza della Padania. Quindi era una grossa contraddizione tra leadership e corpo del partito che poi, come avete visto in tutto questo lungo percorso che ha fatto, che poi è breve in termini temporali perché sono meno di tre anni, ha portato a quello che è Lega Salvini Premier. Vi racconto un altro piccolo anedito. Quando io aderisco alla Lega oramai quasi tre anni fa, nella conferenza stampa con Matteo Salvini portavo questa bandierina italiana. perché dove stava la sfida? La sfida era che non solo che era un movimento nazionale ma dove si portava avanti anche una serie di valori che fino a quel momento erano stati un po' nascosti nella Lega e che poi si è tradotto in quello che era lo slogan della campagna elettorale prima gli italiani. Io ho anche un'esigenza funzionale molto specifica perché tutti gli ambasciatori che incontro, se non porto la bandierina italiana ogni volta devo discutere di quale paese sono, tutti gli incontri italiani, quindi c'è anche una funzione estremamente pratica di questa cosa, però era per il fatto che si vuole sottolineare come ci sia stato questo passaggio di Lega Nazionale che non significa assolutamente una svolta di tipo nazionalista, sicuramente gli interessi del popolo italiano sono prioritarie ma la Lega rimane assolutamente un movimento federalista dove la responsabilità degli amministratori è al primo posto e dove tutte le esperienze di buon governo che si possono portare da un territorio all'altro come best practice è giusto che siano esportate in... però la Lega ha fatto anche molto di più di questo che diventare e ha cominciato a porre un tema fondamentale che poi sarà il punto di vista delle prossime elezioni europee che è ribaltare quella che è il paradigma classico delle elezioni europee. Le elezioni europee sono sempre state tra europeisti progressisti che avevano un certo tipo di visione d'Europa e europeisti conservatori. La Lega di Salvini con tanti altri movimenti in Europa sta spostando l'asse verso la considerazione di, se volete, sovranisti progressisti e sovranisti conservatori. Questo non vuol dire essere contro l'Unione europea ma è avere una nuova forma di governance europea con paradigmi differenti rispetto a quello che è stato il processo di integrazione a cui abbiamo assistito finora e che ha portato a dei risultati che diciamo non sono proprio quelli che in prospettiva quando i padri fondatori avevano previsto il percorso europeo poi si sono materializzati per questo. E l'altra grande novità che ha portato la Lega di Salvini, questo nel campo della politica estera, che è quello su cui mi occupo di più io, è un ritorno al bilateralismo che però non è un tornare indietro e quindi un negare il multilateralismo che è sempre stato il faro della politica estera italiana. È un nuovo modo di interpretare il multilateralismo, cioè rafforzare le cooperazioni tra Paesi, tra Stati nazionali per far sì che vengano meglio pensate e gestite posizioni che poi vengono presentate in contesti multilaterali. Quindi non è che abbiamo una dottrina per questo, però è un bilateralismo che rafforza molto di più il multilateralismo. Quindi non è un negare l'esperienza multilaterale italiana ma è reinterpretarla in un modo per renderlo più efficace e andare oltre quello che è lo stallo che abbiamo vissuto in tanti enti multilaterali su cui l'Italia è protagonista, che sia il processo decisorio nell'Unione Europea, che sia quello della Nato o nelle Nazioni Unite. Però forse forti rapporti bilaterali possono poi tradurre in volontà politica di portare avanti decisioni che poi possono essere spinte nei consessi multilaterali. Quindi questo credo che siano i punti qualificanti che Salvini ha portato negli ultimi tre anni nell'agenda politica italiana. Quindi recuperare una visione di intero Paese unito, ma con le proprie specificità che sono assolutamente differenti, per cui ciò che va bene in Calabria non necessariamente va bene in Trentino, ciò che va bene in Toscana non necessariamente va bene in Romagna o in Emilia, che si fa sempre la confusione che stanno insieme, però sono due realtà molto differenti. Naturalmente questo è un assist all'amico Morrone. L'altra cosa è sicuramente il paradigma europeo e l'ultimo, quello che vi ho accennato, il bilateralismo interpretato in forma multilaterale. Qui mi taccio, passo la parola a Daniele. Grazie molto il sottosegretario. Allora, come sapete, presentiamo questo libro di Francesco Giubilei, sui riferimenti culturali della Lega. Giubilei non è certo, ecco, questo non è un instant book, non è nuovo a questi temi. Ricordiamo che lui ha già scritto una storia del pensiero di destra e una storia del pensiero conservatore. Non è solo un saggista, è anche un editore, la sua casa editrice sta rapidamente diventando un punto di riferimento per la cultura politica di destra. Recentemente ha anche organizzato dei stati generali della cultura di destra qui a Roma, quindi è molto attivo sul tema. Credo che vada ringraziato per il fatto che ci porta all'attenzione il tema della cultura, è un tema centrale quando si parla di politica. Oggi, da un punto di vista di politica stretta, le cose vanno bene se guardiamo dalla prospettiva della Lega. Il partito al governo sta governando, ottenendo, ci dicono i sondaggi, un ampio consenso, un'ampia approvazione. Appunto i sondaggi proiettano verso una fortissima crescita del partito, laddove ci saranno nuove elezioni. Quindi la situazione sul presente, sull'oggi e sul domani è decisamente rosa. La cultura però è quella che ci fa pensare ancora più a lungo periodo, è quella che ci fa pensare già al dopodomani, oltre i cicli politici che sono cangevoli, che possono anche vedere rapidamente i colori che sono sulla cresta dell'onda essere inabissati. Ne abbiamo avuto anche esempi recenti con qualche politico italiano proprio. Dobbiamo pensare che se la politica pratica è quella che definisce le azioni, i sondaggi ci danno le tendenze dell'elettorato, la cultura è quella che ci spiega cosa penseranno le persone fra una generazione. Ora la sinistra è sempre stata molto attenta alla cultura. Dal 68 a meno, ma in realtà anche prima, ha fatto un lavoro molto importante da questo punto di vista. Che si tratti, come dico in America, l'hanno ribattezzate le guerre culturali, o che si parli dell'egemonia gransciana qui in Europa, quello che hanno fatto è stato di sfruttare i momenti di potere per occupare sistematicamente quelle posizioni appunto di potere dal punto di vista culturale, di influenza dal punto di vista culturale, l'accademia, l'industria culturale, i media e così via, e poi anche quando si sono state all'opposizione di far agire questi gangli che avevano occupato in modo da ridefinire il discorso. Ridefinire i limiti del discorso significa decidere ciò che è lecito o non è lecito dire. Se lo spettro del discorso permesso si sposta sempre di più verso sinistra, coloro che si situano a destra, per quanto possano spostarsi a destra, se vogliono rimanere all'interno del discorso mainstream, quello che può essere udito effettivamente, devono adottare dei lineamenti sempre più di sinistra. Per un lungo periodo, l'unica cosa, la cosa più di destra che si poteva affermare, era quella di abbassare le tasse. Siamo tutti d'accordo su questo, ma sicuramente la destra non può essere ridotta soltanto all'abbassamento delle tasse. Quello che la sinistra non aveva previsto, forse non aveva capito esattamente quale fosse il peso, è un'altra categoria, che in realtà tradizionalmente è di sinistra, ma poi è stata dimenticata, è la categoria di popolo. Il popolo in fondo è un sostrato in cui si sedimentano le tradizioni, si sedimentano i pensieri, gli ideali, e al di là di quella che può essere l'azione molto forte che viene fatta in maniera contingente dagli intellettuali che hanno l'egemonia culturale, non è così facile da cambiare, può sempre dare dei frutti nuovi laddove ci sia un qualche shock che riattiva questi germi che sono sempre presenti e che non vengono cancellati facilmente perché sono vecchi di generazione e appartengono alla nostra storia. Recentemente questo shock è stato duplice, è stata la crisi economica, che non è solo la crisi dei mercati finanziari del 2008, ma è stato più in generale un attacco al certo medio in tutto l'Occidente ed è stata anche l'immigrazione di massa che ha rappresentato un ulteriore shock dal punto di vista sociale, culturale ed economico. Sono stati questi due eventi che hanno permesso a leader politici come Trump o come Salvini di spezzare queste catene del discorso consentito, il cosiddetto politicamente corretto e tornare a proporre dei discorsi, dei temi e delle categorie che prima erano banditi. Quindi per questo dico che è molto importante parlare di cultura perché ora che questi vincoli sono stati almeno temporaneamente spezzati c'è una fase in cui si può ridefinire quello che sarà il discorso da qui alla prossima generazione e questo può fare anche la differenza dal punto di vista politico in vista del dopodomani. Esaurita questa mia breve introduzione passerei subito la parola all'altro sottosegretario che anzi colgo l'occasione per ringraziare malgrado i molti impegni è riuscito ad essere qui con noi. Grazie a voi dell'invito, in primis chiedo scusa per il ritardo però abbiamo a che fare con la legittima difesa quindi è un tema caldo, qui avremo presto secondo me delle buone notizie anche perché è il regalo che vogliamo fare agli italiani per Natale quindi penso sia un obiettivo che dobbiamo portare a casa il prima possibile. Io ho un percorso in Lega delle piazze, della strada io sono il sostenitore, il militante, il ragazzo che lavorava alle feste ah lavorava, perdono, lavora alle feste perché tuttora lo faccio ma lo faccio con piacere che ha fatto banchetti che comunque appena mi tolgo gli abiti istituzionali che magari a volte mi stanno anche un pochino stretti della cravatta, della camicia, metto la mia maglietta con sopra il logo con sopra quello che poi è, come diceva bene il collega Picchi quello che poi ci caratterizza, quello che io rappresento la mia nazione, la Romagna, quindi identificando Lega Romagna appunto perché c'è comunque una distinzione fra quelle che sono le varie realtà vedete noi abbiamo fatto di quello che è le realtà regionali o comunque le realtà territoriali un qualcosa di positivo un pregio, una radicalizzazione sul territorio talmente approfondita talmente vicina alle persone che andiamo veramente nelle vie, nelle strade, nelle piazze nelle associazioni, nei quartieri, nelle circoscrizioni, nei comuni a prescindere quello che sia il nostro ruolo politico quando noi ci troviamo all'interno di una festa non esiste il titolo, non esiste un parlamentare non esiste un consigliere regionale, siamo tutti quanti uguali e tutti quanti siamo lì per raccogliere quelle che sono le istanze per riuscire ad ascoltare quello che è il cittadino quando io ho iniziato, mi ricordo tanti anni fa e organizzavo queste feste naturalmente rubando tempo alla vita privata, al lavoro organizzavo queste feste ma era il momento conviviale unito alla politica cioè attorno a quel tavolo attorno a quel tavolo dove in Romagna potevi mangiare un piatto di cappelletti c'era il politico che dal martedì al giovedì magari aveva a che fare con il DEF aveva a che fare con la legge di stabilità e poteva confrontarsi direttamente col militante col sostenitore, col simpatizzante lo stesso militante, lo stesso simpatizzante che aveva quelle istanze corrette che aveva quelle indicazioni che ti permettono poi quando sei nei banchi del governo quando sei nei banchi dell'opposizione di non sbagliare strada cosa ha fatto la sinistra? la sinistra ha sbagliato strada la sinistra si è imborgesita la sinistra non ha più pensato non ha più pensato a quello che erano i suoi cittadini a quello che erano i suoi elettori a un certo punto hanno iniziato a girare in determinati salotti a pensare più ai poteri forti che a quello che era il popolo e ha perso il consenso noi dobbiamo invece continuare a rimanere radicati su un determinato territorio a raccogliere le istanze di quel territorio a portare avanti quelle tradizioni quelle tradizioni che fanno forte la Lega la Lega è forte perché è radicata su un territorio perché riesce a raccogliere le istanze di quel territorio questo deve essere il vantaggio che abbiamo noi e chi è Matteo Salvini? è il primo militante Matteo Salvini è il primo militante della Lega è il ragazzo che il primo congresso federale lo ha discusso con i pantaloni corti candidandosi a diventare segretario federale con la sua maglietta a maniche corte iniziando con i nomi di ogni città a cui poteva visitare ma faceva sentire la sua vicinanza a quella città, a quel paese, a quella frazione ci sono frazioni che magari altri grandi politici non sanno mai neanche dove sono esistite io ricordo quando è andato a Nova Feltra ricordo a Sant'Agata Feltra ricordo a Rimi mi ricordo a Borello tanti di voi non sanno neanche dove sia Borello Giubilei lo sa bene perché è mio conterraneo e quindi sa dove è Borello abbiamo fatto diventare Borello un caso nazionale perché in una piccola comunità il potere di sinistra del territorio emiliano romagnolo voleva scaricare un numero importante di richiedenti asilo che avrebbero sensazionalmente eliminato quella che era la convivialità di un paese distruggendo quello che è il tessuto sociale di un determinato paese quindi questo è Matteo Salvini la persona che ti risponde a due di notte che risponde al cellulare che risponde al messaggio che risponde al post quello che è sempre presente questo è stato per noi è stato per me il mio segretario federale ed è il primo che ha dato l'esempio è il primo che si è dato da fare a girare ogni territorio e quindi ognuno di noi poi a maggior ragione noi che rappresentiamo il governo ma ogni singolo parlamentare si sente prima di tutto in dovere non di emulare il segretario perché naturalmente il segretario ce n'è uno e quindi questo per carità però di dare il proprio contributo ognuno di noi io adesso per le mie deleghe per quanto mi è possibile con tutti i miei limiti però la mia buona volontà sto cercando di portare il mio contributo a questo governo io penso che se nelle prossime mesi riusciamo a portare quella che è a casa che è legittima difesa riusciamo a portare a casa riforma assurita e abbreviato riusciamo a implementare quella che è la polizia penitenziaria con un aumento d'organico un aumento d'organico per quanto riguarda i tribunali civili e penali cercando di velocizzare la giustizia guardando quella che è l'edilizia carceraria e l'edilizia anche dei tribunali per vedere dare una svolta questo è quello che ci ha insegnato il nostro segretario federale questo è quello che ci ha insegnato il nostro governo e la squadra che è attorno al segretario federale perché non dimentichiamo che ci sono tante persone e non metto a fare i nomi perché sicuramente lascio fuori qualcuno che stanno contribuendo a questa squadra a creare questo governo io penso che questa sia la differenza la nostra differenza rispetto a quello che sono gli altri partiti o gli altri movimenti noi siamo un movimento un movimento significa che non abbiamo paura delle nostre idee ma le portiamo avanti fino alla fine noi non abbiamo noi non siamo spesso e volentieri io lo dico quando andiamo nelle piazze noi non è che dobbiamo per forza riscuotere un applauso o per forza cercare il consenso portare avanti quelle che sono delle idee poi se le nostre idee sono poi quelle che ha un determinato popolo i risultati sono quelli che si vedono adesso io ho parlato di radicalizzazione su un territorio per far vedere quelle che sono poi delle caratteristiche positive è ovvio che la Lega ha fatto un percorso importante come diceva Picchi prima di me la Lega che è da territoriale in una determinata parte d'Italia ha deciso di dare un contributo ha deciso di dare una ricetta per tutta l'Italia intera per la nazione questo penso sia un messaggio positivo e quando si vede il consenso positivo che riscontrano i parlamentari della Lega che vanno in determinati territori che fino a pochi anni fa magari erano sconosciuti per noi penso sia il risultato positivo al lavoro che è stato fatto e adesso la grande sfida ma Picchi è molto più esperto anche perché lui effettivamente gira l'Europa sta facendo un ottimo lavoro con le altre nazioni penso che il vero progetto sia quello di diventare una forza europea poi non sta a me che ci mancherebbe il segretario federale siedo nella segreteria federale nel Consiglio federale come membro e come segretario nazionale della Romagna in quanto sono segretario della Romagna del mio territorio però penso che questo sia l'obiettivo ma la cosa che più mi piace e che io sempre condivido subito con Matteo è che lui guardava sempre avanti a volte lanciava forse delle sfide e io vedevo nelle persone negli stessi militanti a volte applaudire però avere un sorrisino come dire sì vabbè lo dice però non ci riusciremo poi quando questi risultati li abbiamo veramente ottenuti allora è il motto che siamo passati dalle parole ai fatti allora quando lanciava il progetto nazionale e tanti non ci credevano oppure tanti erano un pochino perplessi e il risultato è arrivato allora ci siamo resi conto tutti quanti che effettivamente il segretario ce l'ha visto più lungo e quando il segretario federale parla di diventare la prima forza in Europa e probabilmente anche qui qualcuno ha il sorrisino sotto le labbra perché magari pensa che sia un qualcosa di inarrivabile quando fra qualche mese o fra qualche anno bisogna vedere i tempi della politica riusciremo a diventare la prima forza europea allora forse ci convinceremo tutti ma è così che siamo partiti noi siamo partiti con una grande sfida e a livello locale perché ve lo posso testimoniare per la mia esperienza personale quando ho iniziato a fare politica ed era un'alternativa alla sinistra era un'alternativa alla loro DS alla loro aperto comunista ed era una mosca bianca e probabilmente tanti miei professori o tante persone che mi volevano bene mi prendevano da parte e mi dicevano ma Jacopo in questa terra non riuscirei mai a far nulla perché comunque se non c'è del sistema qui non esiste nient'altro ed era la verità noi abbiamo io come tanti militanti abbiamo sempre creduto nel progetto che effettivamente ci fosse qualcosa di diverso un'alternativa a quello che è il sistema di potere di sinistra che ha contaminato la mia terra da tanti anni e da troppi anni quando abbiamo ottenuto i primi risultati nel piccolo comune nella piccola circoscrizione poi nel comune un po' più grande è arrivata tanta voglia ancora di dare sempre più forza e coraggio a quella che era la nostra attività e quindi il prossimo obiettivo e poi qui chiudo per quanto riguarda il livello territoriale saranno già le prossime elezioni in Emilia Romagna dove faremo vedere che dopo 60 anni qualcosa di diverso è cresciuto un'opposizione è capace di creare un'alternativa perché in questo momento politico grazie al nostro leader ma grazie alla grande squadra della Lega qualsiasi obiettivo è possibile e questo è quello che noi andiamo ripetendo nelle sezioni e nelle frazioni non c'è più nessun comune che non sia contendibile non c'è più nessuna provincia non c'è più nessuna regione che non sia contendibile laddove il nostro movimento il nostro partito riesce a creare un'alternativa grazie grazie sottosegretario ci ha ricordato il suo intervento che la cultura politica non è solo riflessione è anche azione l'azione del militante l'azione del politico l'azione dell'uomo di governo è appunto passare dalle parole ai fatti noi però adesso dai fatti ritorniamo alle parole cioè le parole eccellenti che ha scritto Francesco Giubilè nel suo libro che andrà a sintetizzarci prego sì buonasera a tutti non posso che incominciare con dei ringraziamenti dovuti ai due sottosegretari per essere qua anzitutto per gli ottimi interventi con cui mi hanno preceduto e un ringraziamento e dei complimenti sentiti a Daniele Scalea e a Dario Cittadi per l'attività che stanno portando avanti ormai da quasi due anni se non erro con il centro studio di Machiavelli che è una delle poche realtà che è riuscita antitempo e ancora prima del successo elettorale della Lega alle ultime elezioni politiche di costruire quello che è un substrato una base pre-politica e culturale quindi anche al progetto leghista ma non solo l'evoluzione della Lega Nord a Lega quindi eliminando la parola Nord ha portato a una serie di cambiamenti da vari punti di vista anzitutto da un punto di vista di immagine successivamente da un punto di vista di comunicazione e proprio nei contenuti che il partito e quindi il segretario Matteo Salvini ha veicolato nel corso degli ultimi periodi quando si parla di evoluzione di contenuti va da sé che vi è un'evoluzione anche da un punto di vista non solamente politico ma anche da un punto di vista pre-politico e quindi culturale il primo cambiamento importante da un punto di vista dell'immagine è stato il passaggio dal colore verde che ha storicamente caratterizzato la Lega dalla fondazione fino all'ultimo periodo a un colore blu il colore blu al di là del contesto italiano rappresenta in un contesto europeo o comunque extra-nazionale il colore dei conservatori quindi questo passaggio dal colore verde al colore blu ha un messaggio sicuramente anche politico l'eliminazione della parola Nord ha invece portato il partito ad essere non più una forza politica territoriale quindi legata a un preciso ambito territoriale che era inizialmente quello della Padagno e successivamente il Nord Italia bensì a un partito nazionale e quindi alla realizzazione come diceva giustamente il sottosegretario Picchi di una lega nazionale e da questo punto di vista io credo che un emblema un esempio che sintetizzi proprio come sia avvenuto un passaggio da un partito territoriale a un partito nazionale sia il fatto che nell'ultima festa di Pontida per la prima volta si è visto nel famoso prato di Pontida un tricolore che era una cosa inimmaginabile fino a qualche anno fa vi è poi stata un'evoluzione in termini della comunicazione nel senso che la lega è riuscita a realizzare tuttora Salvini realizza una comunicazione a suo modo rivoluzionaria una comunicazione che va oltre quelli che sono gli schemi dei partiti tradizionali poiché integra da un lato una presenza costante sui social network e la lega e Salvini sono riusciti a superare anche da questo punto di vista il movimento 5 stelle il movimento 5 stelle nasce storicamente come un movimento una forza politica che si basa proprio sulla comunicazione online ma è stato superato da un punto di vista di efficacia proprio dalla lega che così facendo è riuscita ad intercettare un elettorato anche giovanile cosa che talvolta non avveniva nei partiti che erano storicamente rappresentato il centro-destra se poi ma lo affronteremo a questo punto se poi la lega si possa a tutt'oggi definire un partito di centro-destra parallelamente quindi a questa comunicazione sui social network è avvenuta come spiegava il sottosegretario Morrone una presenza costante sui territori cioè la lega è stata un partito ed è tutt'oggi un partito presente fortemente su tutti i territori e questa è una caratteristica che la differenzia da quelli che sono gli altri partiti politici una domanda che si sono fatti tanti giornalisti tanti osservatori politici ma che ci siamo fatti anche noi cittadini immagino anche all'interno del partito è se la lega possa definirsi un partito conservatore o meglio se la lega possa definirsi un partito di destra io credo che ad oggi quello che poi riporto anche all'interno del libro e citeremo vari esempi varie fonti che hanno appunto sostenuto questa tesi la lega sia un partito post ideologico quindi la lega non si può inserire in quella che è la dicotomia destra e sinistra poiché è probabile che i termini destra e sinistra non siano più utili a rappresentare quello che è l'attuale schieramento politico e quelle che sono le attuali forze politiche in campo ma lo scriveva già Norberto Bobbio nel 1994 con uno dei più importanti panflet di storia politica contemporanea che si intitolava per l'appunto destra e sinistra a cui l'anno successivo nel 1995 rispose Marcello Veneziani con un panflet edito da Vallecchi proprio per dare un'interpretazione non da sinistra come nel caso di Bobbio bensì da destra quindi la lega è un partito sicuramente post ideologico partendo da questo assunto però è chiaro che la lega sta portando avanti una serie di battaglie politiche che sono storicamente care al mondo della destra e quali sono queste battaglie politiche sono anzitutto nel passaggio da Lega Nord a Lega la tutela di quella che è l'identità nazionale vi è poi il tema dell'immigrazione storicamente cavallo di battaglia della Lega con posizioni che si possono riconoscere in quelle dei partiti di destra un altro tema di cui forse ultimamente si sta parlando meno ma che è stato storicamente una battaglia da un lato della destra e anche della Lega è il presidenzialismo eravamo proprio due settimane fa in questa sala dove abbiamo fatto una conferenza stampa come fondazione Tattarella per annunciare la nostra adesione come fondazione alla raccolta firme per un'iniziativa di referendum popolare per indire un referendum per cercare di realizzare il presidenzialismo e quindi il presidenzialismo già Tattarella lo diceva in un discorso alla Camera nel 1979 è una battaglia che ha storicamente caratterizzato la destra e al contempo la Lega vi è poi il tema della famiglia e connesso adesso il tema della natalità all'interno del libro cito un testo scritto da Ettore Gotti Tedeschi che è sicuramente uno dei riferimenti culturali della Lega insieme al Ministro Fontana che si intitola La culla vuota della civiltà in questo libro emerge come la natalità e Salvini lo dice a più riprese debba essere e sia una tematica cara alla Lega ma il fatto che la Lega vada a interpretare delle battaglie care alla destra non lo dico solamente io ma lo dicono quelli che sono i due principali intellettuali se vogliamo definirli così a loro forse non piacerebbe questa definizione di destra che sono Pietrangelo Buttafuoco e Marcello Veneziani Veneziani scrive infatti che il principale riferimento politico-elettorale di quel mondo e con quel mondo intende il mondo conservatore o rivoluzionario conservatore dei cattolici o dei patrioti è oggi la Lega di Salvini che non è la Lega di Bossi non è più la Lega Padana che non è più la variabile secessionistica di un movimento estremista di centro paradossalmente centrista e centrifugo oggi la Lega di Salvini è sul piano politico la destra in campo quindi questo lo scrive Marcello Veneziani che peraltro era se non erro ieri o l'altro ieri alla scuola politica di Siri organizzata proprio dalla Lega e l'anno successivo invece a questo intervento di Veneziani sul tempo il giornalista Pietro De Leo che è presente in sala del tempo che saluto intervistando Buttafuoco Buttafuoco ribadiva proprio il concetto del fatto che la Lega oggi rappresenti una forza che interpreta quelle che sono le battaglie della destra e Buttafuoco dice che Salvini è l'unico che abbia saputo realizzare un incubatore dove preparare il futuro della destra e riferendosi sempre a Salvini Buttafuoco afferma che è uno che la politica la fa perché la decide e la decide tutta a destra quindi queste battaglie vengono interpretate sicuramente dalla nuova Lega la Lega però non si può definire un partito conservatore to cure o perlomeno se noi applichiamo quella che è la definizione del conservatorismo della storia nell'ideologia politica la Lega non è certamente un partito conservatore a 360 gradi questo perché perché una forza politica che entra e fa un contratto di governo chiamandosi governo del cambiamento è chiaro che il cambiamento è ossimorico rispetto al concetto di conservatorismo se dovessi dare una definizione della Lega mi piacerebbe definirla come un partito rivoluzionario conservatore nel senso che rivoluzionario non inteso nel senso giacobino del termine quindi nell'accezione negativa del termine rivoluzionario ma rivoluzionario in un'accezione positiva ovvero intendendo una forza politica che vuole cambiare le cose e nel cambiarle vuole però rimettere in atto tutta una serie di istanze tutta una serie di valori che caratterizzano quello che è il mondo conservatore la linea dei rivoluzionari conservatori è già esistita nel corso della storia e il conservatore è colui il quale vuole conservare lo status quo nel momento in cui però il conservatore si rende conto che lo status quo quindi il paese in cui si trova a vivere non rispecchia quelle che sono le sue idee non rispecchia quelli che sono i suoi valori quindi i valori della famiglia dell'identità nazionale che sono stati sovvertiti a suo giudizio è necessario tornare al cosiddetto status quo ante quindi quello che c'era precedentemente e da questo punto di vista la lega sta interpretando proprio una piccola rivoluzione conservatrice e oltre a questo punto di vista però sono sicuramente rimaste alcune delle battaglie che storicamente hanno caratterizzato la prima lega di Milio e la prima lega di Gilberto Neto come per esempio il caso dell'autonomia nel senso che l'autonomia dei singoli territori lo diceva giustamente il segretario Morrone rappresenta tutt'oggi uno dei valori uno dei riferimenti che sono alla base della lega e il superamento di cui parlavo poc'anzi del concetto di destra e di sinistra è testimoniato anche da un altro dei riferimenti inseriti nella bibliografia poiché in questo libro vi è oltre una prima parte di analisi di quelle che sono le tematiche quindi i riferimenti culturali di Salvini una sorta di piccola biblioteca minima del sovranismo con una serie di autori che sono quindi cari all'attuale lega e tra questi riferimenti viene citato Alain de Benoit Alain de Benoit è il teorico della novelle droa quindi della nuova destra che è stata realizzata in Italia da Marco Tarchi che ha storicamente rappresentato quindi una corrente culturale della destra e Alain de Benoit in un suo libro che si intitola Populismo parla proprio della fine della destra e della sinistra il sottosegretario Giorgetti che è uno degli ideologi della Lega vi cito quanto diceva in un'intervista al Corriere della Sera in occasione all'approvazione del decreto dignità Giorgetti definiva il decreto dignità né di destra né di sinistra ma con scelte populiste un decreto che non è catalogabile nei soliti modi ecco vi direi che questa espressione non è catalogabile nei soliti modi sintetizzi da un lato quella che è la linea politica e la Lega al contempo sintetizzi quella che è l'alleanza Lega 5 Stelle poiché l'alleanza Lega 5 Stelle è un fatto totalmente inedito e mai avvenuto fino ad oggi nel panorama italiano all'interno del libro poi cercherò di essere abbastanza breve per lasciare spazio anche alle vostre domande sono citati e analizzati una serie di ambiti e vado abbastanza veloce uno è il rapporto con la Chiesa qual è il rapporto tra la Lega la Nuova Lega e la Chiesa uno potrebbe dire è un rapporto se vogliamo conflittuale se si limitasse a un'analisi molto superficiale vedendo quella che è stata la famosa copertina di famiglia cristiana in cui è stato attaccato Salvini in realtà non è assolutamente così non è assolutamente così perché c'è un rapporto forte tra Salvini e tra la Lega con il mondo della Chiesa ma con un mondo della Chiesa conservatore o se vogliamo il mondo della Chiesa cattolico tradizionalista che citavamo Gotti Ledeschi che invece è fortemente legato proprio a quella che è la Lega quindi una Lega che è vicina delle posizioni della Chiesa che se vogliamo erano sintetizzate dal precedente pontefice Benedetto XVI che è una corrente della Chiesa tradizionalista e conservatrice quali sono invece alcuni dei principali riferimenti che vengono citati più riprese da Matteo Salvini nei suoi discorsi sicuramente c'è Oriana Fallaci Oriana Fallaci viene citata in più riprese da Matteo Salvini così come Salvini ha un legame e poi lo affronteremo nell'ambito dei riferimenti in politica estera ha un legame molto forte con il mondo francese e un romanzo che Salvini ha citato in varie occasioni anche su Twitter come una sua lettura è il romanzo di Holbeck sotto missione mentre di recente è emerso da un punto di vista letterario per quelli che sono riferimenti proprio più letterari il rapporto tra Matteo Salvini e un poeta nostro conterraneo che è Davide Rondoni forlivese come sottosegretario che ha organizzato di recente un interessante festival insieme all'ex assessore alla cultura della regione lombardia che è la Cristina Cappellini hanno organizzato il piccolo festival essenziale a Milano dove proprio c'è stato un fatto se vogliamo abbastanza inedito ovvero un poeta che questa è una cosa che fa sicuramente un'ora Salvini un poeta quindi un letterato che intervista un ministro all'interno cosa che non si era quasi mai vista e nel mondo dell'informazione un riferimento che esplicita anche un'altra delle battaglie della Lega che è quella contro il cosiddetto politicamente corretto contro la cosiddetta dittatura politicamente corretto è Marcello Foa Marcello Foa che ha scritto uno dei suoi principali libri agli stregoni della notizia e infatti è stato di recente nominato proprio presidente della RAI c'è poi il mondo delle associazioni se dovessi sintetizzare tre associazioni che sono che rappresentano proprio la realtà leghista c'è sicuramente il centro studi Macchiavelli per l'attività portata avanti da Scallea citati insieme all'onorevole Picchi che ha fatto tutta una serie di venti e di conferenze c'è il talebano legato a Vincenzo Sofo e poi c'è Asimmetrie che non a caso il presidente delle asimmetrie è Bagnai e il vicepresidente è proprio Marcello Foa quali sono invece e mi avvio prima della conclusione alla parte finale del mio intervento quali sono invece i riferimenti in politica estera della Lega anche da questo punto di vista la Lega rompe gli schemi rompe gli schemi perché ha un forte legame con il mondo americano e l'adesione di Matteo Salvini a The Movement di Steve Bannon è la sintesi se vogliamo perfetta anche in questo caso con un preciso mondo americano che se vogliamo è un mondo americano rappresentato oggi dal presidente degli Stati Uniti Trump ma al contempo c'è un legame forte con la Russia quindi da questo punto di vista vengono superati anche in questo caso i principali schemi che hanno storicamente caratterizzato la politica atlantista almeno del nostro paese e c'è poi un legame forte con il mondo francese un legame forte con Marine Le Pen nell'incontro realizzato all'UGL proprio qualche giorno fa lo ha sintetizzato e infatti non a caso oltre a citato un altro autore che ha apprezzato e citato in più occasioni da Salvini è Zemmour autore di un libro molto importante come Il suicidio francese da un punto di vista di politica estera è chiaro che c'è un progetto che probabilmente si concretizzerà con le prossime elezioni europee della costituzione di una lega dei popoli quindi una lega che non sia più nazionale sia sovranazionale ma al contempo rispetti così come nel contesto italiano vengono rispettate le autonomie dei singoli territori delle singole comuni delle singole regioni una lega nazionale europea che rispetti quelle che sono le peculiarità le differenze dei vari contesti nazionali ma al contempo vi siano delle caratteristiche comuni come le origini sicuramente cristiane del nostro continente che siano legate a tutti questi partiti il libro si conclude poi prima della parte della bibliografia con quelli che sono gli oppositori di Salvini nel senso che da un punto di vista culturale è necessario anche citare quelle che sono state tutta una serie di polemiche e di oppositori nei confronti di Salvini c'è sicuramente Roberto Saviano citatissimo c'è l'appello realizzato da Rolling Stone c'è l'appello dell'Espresso che è stato firmato da Michela Murgia e da Zero Calcare quindi ci sono da questo punto di vista anche delle frizioni ma come è normale che sia nel momento in cui si parla si parla di cultura quello che dispiace è che talvolta in quelli che sono gli oppositori di Salvini vi sia un superamento dei toni che a mio giudizio va proprio al contrario di quella che dovrebbe essere la cultura nel senso che io le mie idee e le tue idee la cultura è dialettica è discussione con dei toni pagati io credo che quanto sia avvenuto qualche giorno fa con i fantocci di Salvini e di Maio bruciati in piazza rappresenti proprio una delle cose peggiori che si possa vedere in un paese civile e questo è un peccato perché sarebbe corretto e giusto che vi fosse una dialettica su ben altri toni concludo infine lanciando un piccolo appello io credo che sarebbe sicuramente interessante questo libro si è limitato in modo credo e spero oggettivo ma sarete voi a giudicarlo ad elencare quelli che sono stati nel corso degli ultimi anni nel corso degli ultimi mesi quindi da quando Salvini è diventato segretario del partito ai nostri giorni si è limitato come dicevo a sintetizzare quelli che sono dei riferimenti culturali oggettivi che sono emersi dalle parole di Salvini dalle varie interviste realizzate dalle posizioni poi assunte dal partito invece io credo che sia necessario proprio per cercare di dotare anche di una base metapolitica e prepolitica quella che è una battaglia politica che viene portata avanti dalla Lega cercare di costruire e dar vita una carta dei valori una carta dei valori che sintetizzi quella che può essere una nuova ideologia che se vogliamo è l'ideologia sovranista o identitaria e quindi sarebbe interessante così come anni fa non so se vi ricordate il dominicale che era un settimanale di cultura all'interno del quale scrivevano vari pensatori e vari autori nel 2008 se vi vado a memoria il dominicale realizzò un numero monografico con il cosiddetto pantheon della destra inserendo poi chiaramente si poteva essere d'accordo su certi pensatori a favore di altri però inserendo quelli che dovevano essere a giudizio dei giornalisti del dominicale i riferimenti culturali e della destra sarebbe interessante cercare di costruire un pantheon del pensiero e dell'ideologia sovranista e identitaria e sarebbe bello che a fare questa iniziativa quindi lo rivolgo anche a Daniele Scalea per pensare magari qualche convegno da lanciare insieme e raccogliere e riunire attorno a un tavolo quelli che sono i principali giornalisti storici pensatori filosofi e anche politici che rappresentano questo mondo per cercare di definire magari attraverso un decalogo che però sia esplicitato nei singoli punti quello che dovrebbe essere il pantheon alla base proprio del pensiero sovranista e identitario grazie grazie Francesco dunque siamo ai sgoccioli se qualcuno vuole intervenire dire la sua fare domande chiedo solo la cortesia di presentarsi e di essere molto molto sintetici per rispetto anche di chi eventualmente vorrà intervenire dopo c'è qualche domanda? per Giorgio Rosso di conflitti e strategia un blog due domande secche come pensi che all'autore poi ovviamente come pensi che stia reagendo la lega alla quella che io chiamo l'arma nucleare della sinistra e cioè l'accusa di neofascismo insomma quindi su questa questione come come giudichi la 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 prontezza insomma e l'articolazione della risposta per non cadere nel trito e ritrito discorso appunto del passato che torna e l'altra questione un approfondimento ma ovviamente telegrafico sui rapporti con gli Stati Uniti perché evidentemente il rapporto con Ben non è significativo però si casca si rischia di cascare da una subordinazione all'altra da quella obamiana diciamo clintoniana a quella che vedremo come si sviluppa insomma trampiana e comunque americana grazie prendiamo al volo la seconda domanda Guido De Simone planet360.info è un giornale internazionale dunque facendo riferimento a parte che non ho avuto ancora il piacere di leggerlo credo che sia molto interessante la lettura infatti ma non so ancora se all'interno c'è un riferimento storico a quello che è stato il pensiero di Salvini originario nel senso che originalmente lui era un militante del partito comunista se non ricordo male prima di arrivare poi a conoscere la Lega e a quindi capire che era il modo più concreto di realizzare quelle che erano le sue idee in questo contesto ricordo le parole di Bossi che giustamente diceva il problema della Lega è che è un movimento talmente ampio che dovrà arrivare alla vera maggioranza e poi dovrà evidentemente dividersi nelle sue due anime lui faceva riferimento chiaramente alla dicotomia destra-sinistra ma al di là di questo discorso della destra-sinistra c'è un problema di appunto momenti storici in cui la Lega è evidentemente più progressista perché vuole cambiamento e momenti in cui conquistato quel cambiamento lo vuole conservare ed è un decorso abbastanza naturale mi domando soltanto una cosa visto che siamo in un tema che riguarda sicuramente sotto segretario Picchi ma particolarmente il tema delle prossime elezioni europee si prospetta un forte cambiamento in Europa non si sa ancora in che forma si parla addirittura di una possibile costituente ma la cosa essenziale che non è ancora chiaro è in un contesto in cui la Lega ha due sostanziali nature una è quella delle autonomie locali che evidentemente ha una forte radicazione all'interno del partito e l'altro è quella invece del discorso sovranista più che nazionalista appunto ma la cosa che mi domando è siccome si parla di due possibili europee una è quella della federazione di stati che però serve molto spilanciata e un'ipotesi che è quella addirittura fatta da Winston Churchill nel 1948 che è quella della federazione delle regioni ma in quel contesto la Lega sostanzialmente come si andrebbe a configurare considerato che ha tutte e due le anime all'interno grazie prego chi vuole rispondere allora innanzitutto una breve cosa tanto di quello che ha fatto Machiavelli è insomma parte del mio percorso ma anche quello che è descritto qua per cui tutti i vari riferimenti che sono stati fatti a Ettore Gotti tedeschi veneziani piuttosto che altri sono passati tutti dai nostri convegni da format che abbiamo realizzato a partire di fake news quando ancora ne parlavano in pochi per cui insomma grazie di averci inserito è veramente un percorso biografico non solo politico che ho fatto io con questa Lega dal punto di vista dei riferimenti con gli americani il rapporto con l'amministrazione americana va molto al di là di Stephen Bannon cioè ci sono rapporti da anni tra voglio dire solo a livello parlamentare tra senatori deputati della Lega e senatori deputati americani Trump e Salvini si incontrano quando Salvini era un deputato europeo e Trump era solo un candidato alle primarie repubblicane nessuno ha parlato che contemporaneamente a quella visita abbiamo incontrato 7-8 membri della Camera dei rappresentanti e un tot numero di senatori sia democratici che repubblicani quindi i rapporti della Lega con gli americani vanno da voglio dire dai nostri amministratori presidenti di regione i nostri governatori che insomma si incontravano si incontrano con un tot numero di governatori americani c'è il rapporto parlamentare molto profondo con tante persone in alcuni casi anche rapporti di amicizia insomma che riguardano anche il sottoscritto quindi valutare il rapporto con gli Stati Uniti è molto al di là del Steve Bannon con tutto il rispetto per Steve Bannon the movement e tutto quello che vogliamo però rapporti tra stati e tra ora noi che siamo forze di governo sono estremamente più profonde sulle elezioni europee è una cosa molto banale noi abbiamo trattati in essere quindi non è che ci possiamo inventare percorsi particolarmente arditi costituenti o quant'altro quello che Salvini ha colto che è la banalità più voti prendiamo più siamo in grado di influenzare il processo decisionale all'interno del Parlamento europeo se a livello di nazioni riusciamo ad avere tanti governi chiamiamoli sovranisti ma io voglio l'ho detto questo c'è sovranismo progressista e sovranismo conservatore per cui tu hai governi importanti di cui non ci dirò che sono sicuramente governi progressisti che poco avrebbero a che fare ma che condividono con la Lega e con tanti altri movimenti una nuova governance in termini di Unione Europea il ripatriare alcune competenze che adesso sono confusamente detenute a vari livelli all'interno del meccanismo europeo quindi io non mi voglio mettere a fare scenarios building quello che dico è che ci potrebbe essere dopo giugno governi che esprimono commissari europei per cui la prossima commissione europea non è sicuramente sbilanciata verso un meccanismo come quello attuale e la governance del Parlamento Europeo potrebbe essere differente la somma di questi due quindi avere un certo tipo di Parlamento Europeo e di Commissione Europea può portare a quel processo di modifica dei trattati che come ha sempre detto Salvini in tutta la è sedersi con i nostri partner europei e fare modifiche concordate che abbiano sempre trovare un nuovo minimo comune denominatore che in questi anni di europeismo di Europa in nome per l'Europa ma che poi ha portato a Schengen sospesa in 5 o 6 stati europei per cui io vengo accusato io lega di essere quello che costruisce muri poi scopri che la Francia ha Schengen sospeso dal 2014 la Germania ce l'ha sospeso l'Austria ce l'ha sospeso la Danimarca ce l'ha sospeso la Svezia ce l'ha sospeso allora noi siamo gli unici che invece hanno Schengen che funziona quindi forse un po' meno di ipocrisia e molto più di pragmatismo può portare a veramente un cambio di paradigma che attraverso il meccanismo dei trattati europei che sono scritti che sono procedure scritte ci possono portare a una diversa governance è un modo migliore per stare insieme nell'interesse di tutti perché la cosa di cui si è perso è che il grande vantaggio della Lega è che la Lega sta in mezzo alla gente per cui io mi sono trovato sempre bene perché ho sempre fatto mercati banchetti tutto quello che c'era da fare di feste se ne facevano di meno ma insomma c'era tutto e quindi essere vicino alla gente vuol dire che tu hai un costante rapporto con le persone per cui hai il polso della situazione e tanti altri questo non ce l'hanno e se tu lo riesci a fare in 27 stati dell'Unione che tu abbia che tu sia fondamentalmente un progressista o forse più un conservatore fa sì che riporti il popolo al centro dell'agenda politica perché poi alla fine noi siamo eletti sicuramente per le prossime generazioni ma anche per chi vive l'oggi troppo spesso nell'Unione Europea in nome del futuro si trascurava il presente e spesso il popolo c'ha fame oggi e non domani grazie le ultime parole al sottosegretario Morrone perché siamo già stati richiamati all'ordine ok velocissimamente no io voglio prendere un pezzo del libro che secondo me è quello che un po' significa e dà la risposta a tutto la Lega è cercare la libertà la Lega è cercare la libertà ed è secondo me un concetto un pochino profondo nel senso io ricordo e nel pezzo identificato ricordo al meeting di Rimini quando il titolo del meeting di Rimini di quest'anno era le forze che muovono la storia sono le stesse che rendono l'uomo felice e ricordo perché ero in prima fila che Giancarlo Giorgetti contestò questo titolo con il gelo della sala degli organizzatori che non capivano quale poteva essere il significato e lui disse secondo me il titolo è sbagliato e poi con l'accezione di Dostoevsky dice sì perché se fai scegliere al popolo tra libertà e felicità il popolo sceglierà sempre la felicità se mi permettete il titolo dovrebbe essere le forze che muovono la storia sono le stesse che rendono l'uomo libero e felice noi abbiamo sempre cercato la libertà perché la felicità se vogliamo è un pochino più semplice è un pochino più populista noi invece cercando la libertà la libertà è riuscire a dire a un militante a un sostenitore a uno che abita nella regione più rossa d'Italia che per trovare un lavoro non deve prendere la tessa del Partito Comunista è la possibilità di esprimersi in un voto per l'autonomia della propria regione come hanno fatto in Veto e Lombardia la possibilità di esprimere il proprio voto favorevole non favorevole astenuto è la possibilità di scardinare un sistema quello per cui è nata la Lega la Lega voleva scardinare un sistema un sistema che magari era corrotto un sistema che era questa è la Lega cioè la Lega è un movimento che ha cercato prima di tutto un partito che ha cercato la libertà della persona e il più grande il nostro segretario federale cos'è che ha capito in più di tutti quanti gli altri ha avuto un contatto diretto con ogni singola persona io vedevo mi ricordo sin dall'inizio quando ci fu la prima moda dei selfie perché tanti sorridevano vedevano il segretario federale Matteo Salvini che si fesseva i selfie e molti sorridevano e non capivano la potenza e l'intelligenza del segretario Matteo Salvini di prendere un contatto non col presidente degli industriali dell'associazionismo ma col singolo militante col singolo sostenitore col singolo cittadino che fino a sei mesi prima ha votato a sinistra che viene da una generazione che ha votato a sinistra ha stretto un contatto diretto fra il segretario federale e il popolo le ore e ore e che io ho l'esperienza perché poi quando lui faceva le foto ci aveva qualcuno che le foto gliele facesse quindi io ero spesso quello che faceva le foto e ora e ora a fare delle foto con i selfie che uno fa sorridere dice una cosa banale no non era una cosa banale era il contatto del segretario federale noi parliamo di 15 anni fa quando arrivavano i politici eravamo prima le macchine di sicurezza poi le guardi scorta tu il politico manco lo avvicinavi lui ha avuto un contatto diretto con quello che sono questo è il messaggio vero il contatto diretto fra il popolo e la propria espressione voi se provate insieme a me e picchi a girare in mezzo alle feste della Lega tutti quanti conoscono Matteo Salvini meglio di che conoscono noi perché comunque lo vedono tutti i giorni in televisione hanno fatto un selfie e quindi lo considerano un amico e considerano una persona con cui poter dialogare chiedere e fare questo è il vantaggio per cercare la libertà la libertà è quella di scardinare quel sistema quel sistema che passo dopo passo ha piccoli passi come dico io è la responsabilità del Ministero della Giustizia non sto pensando non ho la bacchetta magica probabilmente non ho tutte queste capacità per fare chissà che cosa però voglio ottenere dei piccoli passi e oggi è una notizia che ho dato oggi quando siamo riusciti a sbloccare 34 milioni e 600 mila euro per un carcere di una pratica incagliata che se a 31-12-2018 non venivano impegnati questi fondi tornavano in un unico calderone capisci che il tuo piccolo passo è stato quello di darsi da fare girare i ministeri prendere la pratica e risolvere un problema è uno ce ne sono tanti ma intanto risolviamo quello purtroppo in passato si è pensato alle grandi strategie e non si è pensato ai piccoli passi non si è pensato alla gente come Matteo Salvini ha pensato a questo a risolvere a dare una mano a stare di fianco al più debole o al più forte comunque c'era e comunque c'è quindi la libertà è secondo me come dice Giancarlo Giorgetti è quella che renderà l'uomo felice ma prima di tutto la libertà che va conquistata grazie a tutti e buona serata grazie a tutti